Ok, ce l'ho. Allora. C'è un hangar. C'è un hangar. Non ho tante foto, insomma, quindi... Eh, non è facile averle quelle. Ok. Ma cosa ti dà fastidio il mouse stasera? Allora. Ok. 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 pronto andiamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti però il G ha venduto in Europa il S no, ce l'avamo solo noi i turchi quindi se fai un realismo storico vendi di più il G andiamo a destra siamo nella zona mi è un fascista è un fascista vai adesso andiamo a destra è un fascista mi sa che a questo giro di shelter non li vedo io si, io li vedo ma tu sai che io Verona non ce l'ho al livello meno uno ti ricordi Andrea che ha detto metterlo al meno uno si ma anche io non ce l'ho al meno uno si è spostato da sola se non è strana però è strana ci deve essere stato qualche aggiornamento che lo ha esatto esatto però io ce l'ho giù adesso Verona ma vedo gli shelter un mondo strano anche io li vedo ma non so se sono uno dentro l'altro oppure no ah quello non te lo so dire perché probabilmente li vedi ma sono uno dentro l'altro ci sono oddio può anche essere poi sono abbastanza distanti e non riesco a capirlo vero hai ragione si sono distanti ora non è un atterraggio guarda Nembra Erdo Erdo Lomiti l'hai visto? non lo vedo no ah è passato la vostra sinistra adesso no non l'ho visto infatti vedi che qua l'apro non è chiusa qua a destra ah si giusto allora niente non ci sono le esclusioni quindi va messo meno uno ho capito perfetto 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 no ferma tutto io entro no no ci sono le cose ci sono le sbarre ci sono i panettoni no io non li vedo non vedi le barriere? no no non c'è nessuna barriera quelle bianche e rosse? no ok le vedo spostate ne vedo una barriera bianca e rossa ma spostata sul raccordo non in mezzo sul raccordo? si 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 spostate un po' da destra vedo delle barriere bianche e nere ma non mi impedisco di entrare dentro anzi c'è tutta la via libera per entrare nella parte militare e io non sono a meno uno capito? vabbè comunque va messo per forza meno uno ok ok in quel momento perché ci è volato anche oggi da qua quindi l'avevo già visto prima va bene ok andiamo in pista vai c'è già il board che c'è in senso? ce l'hai già? si l'ho già inserito 121x se non sbaglio che ti dico si 121x come è pesante sto aeroporto vero? eh guarda faccio fatica anche io infatti per quanto pesante si vabbè vabbè tanto decolliamo ce l'andiamo 121? sì 121x ok pronto faro di atterraggio e faro di rullaggio spenti ok 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 ma scusa se tieni il faro di rullaggio non c'è mica problemi no? ti rimane acceso quando vai in volo ti allontani diventa una sfera di fuoco ah ok una palla bianca ah ok ok quindi faro spento altissimo ok faro spento al centro giusto? sì al centro sì al centro carburanti su tip indicatore tip tacca nativo luce accese piattaforma lineata orizzonte a posto ok pronti? 1 freni 8-0 decolliamo a due secondi 8-0 freni 3 2 1 via decolliamo i 9 decolliamo i 9 suometri suometri sinistra passando 320 sui flap via i flap blu ok due dentro proseguo a sinistra in bound piacerezza ok riduco è dentro ricevuto 9-3 ok ok fermiamo qua cosa prima? ok regolato a posto allora fede togli sti cazzo di piedi dalla pedaliera niente sto cazzo di vizio da elicotterare io me lo toglierò mai questi elicotteristi questi frullatori guarda assolutamente senza pedaliera l'elicottero non gira quindi va tranquillo clean espedale espedale ok prendiamo un po' bene guardiamo un po' perché quindi pulita bene complica risposta fuori Ok, c'è il livello 15 e mi fermo Uh, tec tu perdi, vedo Cosa? Ho visto delle texte sul terreno viola e verdi per un attimo qualche problema del testo che vuole anche adesso vedo del testo viola Sì, hai avviato per caso qualche cache e hai avviato con le mappe Bing Eh? Hai qualche cache salvata e le mappe Bing sono state avviate Devo fare una pulizia delle cache Sì, perché se ti saltano fuori viola è così Eh sì che non dovrebbe essere attivato che non dovrebbe essere attivato però eh Sì Prisa No, no, è proprio liscio liscio proprio Guarda a destra Ti Ti vedo Ti vedo Ti vedo, ti vedo, ti vedo Ti ho filmato Ti salgo Ti salgo un po' perché non mi procedo Per gli assi Per i tuoi fans Salgo Vai Andrea Per i tuoi fans E per i tuoi fans E per i tuoi fini Ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo, ci vedo intera settimana va comunque brutto il texodo identifica la piacenza E' con 18 miglia di Piacenza, lo prendiamo? 18, si E dopo faccio una bella con il Cachner, guarda gli effetti strani oggi, mai visto? Ah, se attivi le cache è così, attivi una volta le mappe BING, si è fregato. Ma in che senso? Il file shader cache? No, è disattivata, la mia shader cache è disattivata. Magari ci attiva quella della Google? Comunque ho scaricato un video su come c'è tutta la procedura per scaricare bene le shader cache, c'è un casino da fare. No, ma in realtà no, non c'entrano quelli... Ah, ma io guarda, ho le shader cache disattivate in senso momento. Se le inquadrate in viola è perché c'è qualcosa che non va. Eh, beh, ovvio. Sì, là già arrivo. Ma è dovuto a quello, non è sicuramente altro. Ma la cache è disattivata in questo momento, non è quella che dovrei qualcosa altro. No, è solo quello che lo fa. Pris, arrivo. Eh, ma scommetti che vedrai che io ce ne ho disattivata. Quando anterriamo, poi guardiamo e facciamo dire l'antirante. Si, si, si. Eccomi qua. Ok. Non vedo la base. Siamo a 3 miglia. A sinistra. Eccolo là, sinistra. Eccolo. 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 Cioè hai perso, sei in basso a destra. Guardi in basso a destra ore 2. Ore 3 ore. Ok. Un attimo. Eccolo qua. E proseguiamo per Genova. Se andiamo un po', c'è un po' di montagna qua, vai, vai nella valle, se perché non ci che è sotto la piscchia. Sì. Allora, da destra, pronti? 3, 2, 1, via! Proseguiamo a sinistra 3, 2, 1, via! Non so perchè ci dai 3, 2, 1, via! Qua si dai l'ordine con l'anticipo e poi non sappiamo che parla! Pronti ad andare a destra, via! Chiudo! Continuiamo a sinistra 3, 2, via! E andiamo giù questo, lascio a zero! Ci riveliamo, andiamo giù! La riduco leggermente! Non questa, la prossima a destra! Comunque dà la sensazione della velocità a bassa quota eh! Ok! Destra! Via! Stingo! Ok! Scavalliamo qui a sinistra! Stingo! Ma non è che voi avete qualche match qualcosa di diverso? Strato! Perché io molto l'ho potuto tirare su, sennò mi piantava! No! Ma... Ma... Sai cosa c'è Andrea? Voli un po' basso quando inclini e devi pensare che hai un gregario a destra e non a sinistra quindi se stai sopra la collina ma in pirata il tuo gregario rimane lì, capito? Cioè finché vai dritto! Prova a tenere un profilo rettilineo e vola basso Andrea! Vediamo subito! Prova a metterti... Adesso scendiamo qua e vado a fare un pelò alle montagne! Però è bravo! Esatto! Però devi andare rettilineo, capito? In modo tale da non virare! Così... Mi ha visto qua! Ecco! Prova a vedere adesso! Se lui passa basso tu affiancati e metti la stessa quota dovresti vedere! C'è una punta... Occhio Davide a destra! Sì sì! La vedo! La vedo! Infatti io vedo la stessa cosa che vede lui! Guarda! Io sono ancora... Ecco! Sei passato qua! Sì! Esatto! Anche io confermo! Sì sì sì! Perfetto! Anche adesso! Sì! Andiamo a destra! Ok! Sì sì! Passiamo questa cresta poi giù a sinistra! Questa... Sinistra veloce! Ora vediamo! Stringo! Stringo! Livello piano invertiamo a destra! Via! Veloce! Sinistra! Tra poco! Dovrò mai essere su Camogli! Ok! Ok! Io ho dovuto rompere per un attimo perché non ti ho più visto e ho dovuto rompere! Dove sei? Dietro di te! Sto ritornando in posto! Ok! Però quando ti perdo sotto devo in tirata così devo rompere perché non posso rischiare che ti vedrai più verso! Ok! Prezzo? No! No! Eh! Ma è veramente listo qua che... Eh! Qua sì! Eh! Grazie! Ok! Tu sei andato giù di colpo?! Che è successo? Che è successo? Tu sei andato giù di botto? Tu sei andato giù? Eh! Sei andato giù di botto? Hai picchiato? Hai dovuto rompere anche in questo caso? Ma hai picchiato? No. Ma hai visto anche tu Fede? C'è il variometro a zero. Non è stato un lag. Questo è proprio più chiaro. Prova a vedere adesso. Ancora. Non lo sai tanto stabile. Ma il vento ne abbiamo quattro nodi da due. No, non è il vento. Non è il vento. Però è tutto bello tranquillo. Si è andato sotto. No, ma sembra anche... Come si chiamano? Dei ladri di rete, eh? Eh, può essere. Perché il variometro a zero, la quota è... 2700. Eh sì, perché non c'era motivo per cui picchiassi, capito? Perché poi mi sembrava strano perché... Tu sarai trimmato all'Irola. Lasci andare. Siamo qua. Belli ci pare. Non c'era nessun motivo per cui andare. Ma sei anche giù abbastanza rapido, eh? Poi ti fai vedere dal video. Però le luci si vedono bene. Si, le luci sono perfette. Forse sono troppo luminose da lontano. Ho tolto un po' di intensità, però... Se puoi, si. Se puoi togliere un po' di intensità anche di notte. Un pelino ci sta, secondo me. Si possono anche dimezzare. Si, però un po' di intensità di meno, secondo me, è meglio. Sì. Allora, da un'occhiata. Se troviamo qualche radio assistenza di Francia, tipo Bastia. Ok. Se vuoi accendere il radar. Se vediamo a che punto siamo qua. Ma Calvi è un Ndb-105. Nel Papastia abbiamo un Borla. Sì, 114.50. E' qui. Ma come funziona il radar? Sì. Sì. Allora, 114.50. Sì. 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 Vediamo se lo ricevo. Sì. 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 arriva un'autacca, nepporti e me schiacciate guarda ma non me lo piglio stessi 84 miglia, ce l'ho ma io no sì io comunque vi ho perso non vuole dire ma vi ho perso anche questo è strano io vi ho perso ecco lo prendo sempre 2007 che distanza hai dal 71 quanto? 71,70 ah, gusti stavo dando il disorientamento ecco io adesso vi vedo mi stavo qua il schiantato ok sono qua a destra ok bisogna anche cliccare su questo calo di dakan ti ammazzi che rischi di ammazzare ti ammazzare ok finita ci vedi avanti arrivo marcati di recenza passo sotto leggermente ok io prima lo prendevo il tag adesso lo prendo più eccoci qua a sinistra torno a 2006 non lo prendo più adesso ma vai a capire per un attimo l'ho preso vabbè ce l'ho io non c'è problema anche lì c'è da capire allora adesso io oggi ho fatto un volo con l'amico mio che ha il 104 di default no? allora siamo decodati da Estrada e lui prendeva Rimini a 90 miglia e io l'ho preso a 20 come cazzo è possibile? io dicevo no non è possibile che prendi il tag a 90 miglia io l'ho visto quando sono arrivato quasi succede come posso? sto usando il VOR quello VOR ma niente ho 0 e anche tu Fede anche io Fede abbiamo lo stesso aeree ragazzi come è possibile bene è possibile vuoi cambiare la modalità, cambiamo la modalità nativo nativo non lo prende 45 miglia leggermente a sinistra negativo, non vuole sapere, non funziona niente davanti a noi abbiamo il golf best no, vengo dietro a te non funziona niente ok, è ganciato adesso 40.000 40 bravo, anch'io, confermo, vedi, io e Fede abbiamo lo stesso come cavolo fai tu a prenderlo prima di noi tu hai il taccante, lo tolti? no, no, non li ho più se stai utilizzando il tuo file lo prendi a 40.000 perché il range dominale è riportato sull'IP è 40.000 sì, ma perché no, non ce l'abbiamo più perché Andrea l'ha preso prima di noi, molto prima di noi, capito? abbiamo lo stesso aereo? no, questo non lo so è lì il problema, anch'io ho tolti probabilmente sono gli aggiornamenti aereo che ci sono dentro, adesso no, diverso ma abbiamo lo stesso aereo, cosa cambia? lo so, però se non hai lo stesso aggiornamento aereo che mi hai fatto anche saltare ma l'aggiornamento aereo che si aggiorna con Fly Simulator e Fly Simulator si aggiorna da solo no, non ti so dire perché, di fatto io ce l'ho a 32.000 e quanti l'ho preso a 70.000 sì, ma vedi, anche noi l'abbiamo davanti ma l'abbiamo preso a 40 cioè, mica un miglio, mica un miglio di differenza, capito? perché? ti ho detto che l'amico mio prendeva a Rimini da 90 miglia lo prendeva eh? e io l'ho preso neanche a 30 l'importante è prenderlo sì, ho capito l'importante, sì, va bene prenderlo, penso, va bene sorvoliamo ok, questo è l'indice della Corsica ok, questo è l'indice della Corsica adesso ci portiamo sulla costa andiamo adesso, via a sinistra a sinistra? a sinistra? sì, fresca fresca, mi si è congelato, aspetta ah, ok mi è uscito il prossimo ma per me sei stato perfetto ecco, adesso sì, adesso sei uscito ok, io continuo con la stessa brua continuate, io se riesco arrivo, se non riesco pazienza continuiamo sulla costa, come dicevi eh? sì non ho capito perché me l'ha chiuso ma te l'ha chiuso chiuso? si, mi ha chiuso fino a qua ah, addirittura? eh gusti? eh, si è incazzato accidenti adesso se riesco parto ancora da 10 ah, da Bastille, giusto è vero, è vero ok, vado giù vado a lungo costa vado giù ridurgo 9-0 facciamo la costa quando poi arriviamo sull'estremo sud dell'isola tagliamo per la Maddalena e di là facciamo la nuova costa che mi ha dato un problema audio e poi mi ha frizzato mi ha chiuso ok vado su vado su vado su Bastille se aspetti 5 minuti su Bastille vabbè, rimaniamo su Bastille guarda, vado lì eccolo qua tu a sud 12.000 che è successo? che è successo? è diventato notte anche a me eh, perché sono uscito io porco giudice allora, dove stai lì? io so sempre dritto adesso io arrivo vai sul vol vai sul taca vai sul taca è bella questa sto andando sul taca ovviamente salgo un po' a 2.000 piedi perché se no guardi è bella però la costa guarda che forza se c'è l'aeroporto lo vedo lo vedo l'aeroporto eh, non lo vedo qua ecco qua puretta vola adesso se lo metto a giorno dovrebbe tornarvi giorno anche a voi eh sì sì bastia vado a se pista Fede se riuscite a rimanere in contatto fra di voi io adesso vi vado io faccio faccio i circuiti a destra perché c'è la terraferma quindi è più facile vedere per terra faccio i circuiti a destra vado giù adesso tolgo quindi posso che ho mandato il giorno adesso vediamo se cambia eccolo qua sì giorno perfetto ok adesso si decollo ok adesso siamo sulla pista 30 secondi ti vedo ti vedo mi sa che ti vedo aspetta mi sposto perché decolli di qua ok quando mi sei mi sorvolato ti vedo ti vedo eccoli qua siamo sopra di te passati ok hai visto ok chiudo il circuito a sinistra mi vedo più però siamo in circuito faccio un circuito hai fatto destra a sinistra 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 sto girando ok riesco a vedere ok ti vedo io riduco 8-0 ok che puoi andare attraverso la costa di nuovo ah beh ormai giro chiudo il giro chiudo il giro Andrea ripasso sulla pista ok mi vedo mi vedo mi vedo ecco qua attraverso il campo ora ok stringo un po' ok verticale ora e poi punto vado sulla costa riaccelero 9-0 ok vado sulla costa sto avanti a voi tra poco destra o sinistra decida che parte spuchi avanti sono già avanti eh non ti vedo se no te lo direi copra non ti vedo negativo non ti vedo non mi vedete ah adesso caspita si ma sei più indietro cazzo mi fai nel torcicolo ma sei lento però 6-400 no eh io non mi vedo riduco sono sotto a destra guardavo a ore e due ah ti vedo ok se riuscite a ricanciare io rimetto il motore si si è arrivato ti prendo vede lo vedi? ancora no adesso sto è sul mare è sul mare si si visto ok due dentro finalmente tre dentro ok ok dovrei essere in su di essere guardo un po' a destra stop ok Grazie a tutti 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 Guarda Grazie a tutti 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 Grazie a tutti